È stato l'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo ad ospitare il primo incontro del corso di formazione Incontrare la disabilità, promosso dall'ufficio diocesano di pastorale sanitaria in collaborazione con le istituzioni locali. Un corso di formazione, ma anche di informazione, rivolto a professionisti, volontari e familiari che quotidianamente si confrontano con il mondo della disabilità. Tra i relatori di questo primo incontro anche il giornalista e scrittore Claudio Imprudente che ha tenuto un intervento sul tema Il disabile tra potenzialità e limiti tra bisogni e diritti. Affetto fin dalla nascita da tetraparesi spastica, Claudio comunica con l'ausilio di una tavoletta di plexiglass trasparente dove sono impresse le lettere dell'alfabeto. E, U, UN, P, UN, PRE, UN PRO, C, C, S, E UN PROCESSO, L, LU, LUNG, LUNG, LUNGO, E, D, DI, DI, DIFFICILE. che, C, C, R, C, CERTO, C, CERTO, CHE, CA, NO, CERTO, CHE, 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 CHE. che, C, S, SO, N, CI SONO, ESSE, STE, STA, STATI, DE, DEI, DEI, könnten. dei passi, I, IN, AVANTI. Imprudente paragone il tema della disabilità alla storia delle persone di colore che fino a due secoli fa erano in schiavitù. Adesso il presidente degli Stati Uniti è nero, afferma lo scrittore, che conclude è un processo lungo, rispetto a 40 anni fa le cose sono cambiate, ma c'è ancora molto da fare. Parlavo adesso con questo giovane ragazzo che ha una disabilità gravissima, che ha messo insieme un sistema per parlare, che mi ha emotivamente coinvolto e anche stimolato a capire che nella disabilità, anche nelle forme gravissime, possiamo sempre fare qualcosa.